Siamo alla cronaca che ci porta a Giulianova dove i carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga grazie al fiuto infallibile di un cane, un pastore tedesco, un cane antidroga, si chiama Baghera e ha tre anni, ha già all'attivo parecchi ritrovamenti di stupefacenti. Il cane camminando nella zona dell'appartamento dove poi è avvenuto il sequestro ha dato segni inequivocabili di aver annusato qualcosa. Una volta entrati nella casa all'interno di una camera sono stati rivenuti un borsone nero e un trolley con circa 51 chili di hashish, mentre in una busta i carabinieri hanno trovato un chilo di cocaina. L'appartamento è stato ulteriormente setacciato, non è stato trovato altro, ma la droga è ovviamente stata posta sotto sequestro a carico di gnoti e al momento del controllo in casa non era presente nessuno.